Quattro metri e mezzo che vuol dire spazio per la famiglia, sguardo affilato moderno davanti e dietro, tecnologia all'interno, sistema ibrido furbo e chicca, quattro ruote sterzanti. Ecco una C-SUV molto intelligente che potrà dire la sua. Megane ha introdotto questo nuovo corso, questo nuovo stile di Renault. Lei raccoglie ma in modo più moderato, più conservativo, del resto deve fare grandi numeri. Quindi abitabilità, c'è una sensazione di tetto spiovente, un po' coupé enfatizzato dal bicolor, ma rimane comunque una macchina di sostanza, anche il dietro, vedete queste luci affilate grazie anche ai LED. Cerchi arrivano fino a 20 pollici come questi e la sensazione portata da Megane si ha ancora di più all'interno. Doppio display a forma di L, Google integrato, tanta tecnologia, grosso tunnel centrale con questo manopolone un po' in stile aeroplano. Materiali davvero di qualità, ottimi accoppiamenti, volante quadrato. Questo è un allestimento speciale Alpine, però quello che c'è da dire è che raccoglie le eredità Kajar, ma lei fa un doppio clic in avanti. La macchina della famiglia qual è? Spazio per i bagagli, da 430 a 555 litri, grazie al divanetto posteriore che scorre. Ottime finiture, velluto ovunque, ganci di ritegno, presa di corrente, insomma la famiglia è a posto. Ed eccoci alla guida dove si può parlare dei suoi valori aggiunti, che sono fondamentalmente due, la motorizzazione e le ruote posteriori sterzanti. Motorizzazione. Questo è un sistema ibrido molto particolare, l'abbiamo già conosciuto sulla Clio, ma ovviamente è stato evoluto, ottimizzato. Ha un tre cilindri 1.2 da 131 cavalli più due motori elettrici. Uno più grosso, da 50 kilowatt, cioè 68 cavalli, che dà trazione diretta alle ruote. Più un altro piccolo invece, che serve per l'avviamento del motore, serve a sopperire nelle cambiate con quell'aiuto di coppia tra una marcia e l'altra, e contribuisce a ricaricare la batteria. Perché è un ibrido particolare? È un sistema che lavora in modo tutto suo. Innanzitutto la prima e la retro sono sempre elettrici, ma lei parte sempre in elettrico. E cosa vuol dire guidare con un motore del genere? Che subito c'è tanta coppia, questo aiutino dell'elettrico che viene appunto a dare questa forza in apertura, quasi da dosare il gas, è piacevole. Poi si sente il tre cilindri frullare e c'è l'interazione comunque col motore elettrico. Un'interazione che avviene con un cambio molto particolare, un cambio robotizzato, quindi non è una trasmissione a variazione continua. La trasmissione ovviamente è automatica, ma si ha un effetto diverso rispetto a quanto si è abituati sulle ibride più diffuse. La progressione è molto buona, non c'è il tipico picco di regime che siamo abituati a sentire per esempio sul sistema ibrido di Toyota. C'è una progressione continua, costante, e poi c'è invece il momento della cambiata dove c'è un interregno temporale di attesa. Questa cosa la si sente soprattutto in modalità di guida comfort, in quella sport viene smussata, vengono accorciati questi tempi morti, chiamiamoli così. Diciamo che per apprezzarla al meglio conviene avere un piede leggero sul gas e allora si apprezza questa interazione, questa logica di cambiata. Davvero prevale una fluidità generale molto piacevole. Se si vuole invece essere più padroni della guida, ecco, qui bisogna interpretare, capire le logiche di cambiata. Perché può magari a volte rimanere la marcia dentro più a lungo, oppure puoi entrare in curva e letti libera e quindi non hai più freno motore. E quando si esce magari dalla curva stretta, dal tornante, questa coppia subito molto piacevole, bisogna imparare a conoscerla. Vuol dire essere appunto leggeri col comando del gas per non avere questo piccolo sussuto che è piacevole, ma magari può disturbare la quiete anche dei passeggeri che sono con voi. Quattro possibilità di ricarica generativa mediante piccoli paddle al volante. Può essere un aiuto alla guida per personalizzare anche il proprio stile di guida, si arriva fino al one pedal feeling. Ecco, devo dire che la visualizzazione dello stato di ricarica generativa non si vede occultato dal drive. Qui, come siamo stati abituati sulla Megane, è abbastanza affollata la parte destra del volante. Tre leve ci sono appunto il drive, poi c'è quella del tergicristallo e infine il satellite per la regolazione del volume e dell'i-fi. Volante quadrato come sulla Megane, all'inizio può sconcertare, invece ci si abitua facilmente e non occlude la strumentazione. Strumentazione che è molto ben visibile con questo pannello, questo doppio display a forma di L, Open R, che è molto definito, si vede molto bene, nonostante non ci sia nessuna palpebra sopra di esso. Secondo valore aggiunto, dicevamo le ruote sterzanti posteriori, che sono davvero una rarità su una C-SUV come questa. Arrivano a sterzare in controfase fino a 5 gradi per aumentare l'agilità, la maneggevolezza. Infatti il diametro di sterzata dichiarato è davvero notevole per una lunghezza così di 4 metri e mezzo, 10,1 metri il diametro. Ovviamente parliamo nella situazione delle ruote sterzanti posteriori perché solo con le anteriori invece aumenta questo diametro, ma non di molto. Si viene conquistati dalla silenziosità di marcia che si ha. Il motore si sente appena, il tracilindri lo si sente brulicare solo quando è chiamato in causa agli alti regimi, altrimenti si fluttua in una sensazione di scorrevolezza notevole. A tal punto che i frusci degli specchietti emergono perché c'è silenzio, così come il rotolamento, si avverte abbastanza. Buona l'impronta a terra, ricordiamo che ha cerchi da 20, arriva fino a 20, come in questo caso parte da 18 il diametro. Sterzo abbastanza diretto, non come sulla Megane, ma c'è una buona sensazione di guida. Ricordiamoci che siamo su un'auto da famiglia, abbastanza voluminosa, abbastanza alta, 18 cm da terra e quindi uno non ha la sensazione di provare qualcosa di sportivo. Anche se in questo allestimento speciale devo dire che tra cucitura e contrasto, simile al Cantara e quant'altro si ha questa percezione, ma è puramente una nota estetica. Anche l'assetto è abbastanza sul rigido, sentite il rumore, siamo su un tratto di porfido. Devo dire che comunque è piacevole da guidare, non si ha assolutamente il senso del peso, dell'inerzia, vengono dichiarate una tonnellata e mezzo abbondante e non si avverte questo peso. Siamo lontani dal mondo elettrico dove se entri con quei 10 km in più in curva senti l'inerzia che spinge, che modifica la linea di percorrenza. Oltre a questo full hybrid ci sono anche due mild hybrid, ovvero il 12V a 160 CV e cambio doppio frizione e invece il 48V con il 3 cilindri da 131 CV e cambio manuale. Altra cosa importante da dire è la differenza tra le due ruote sterzanti e le quattro perché cambia l'architettura al posteriore. Le due ruote sterzanti hanno il ponte torcente dietro, mentre invece questa con le quattro ruote ha un multilink a quattro bracci. Avere le ruote posteriori sterzanti aiuta oltre abbiamo detto l'agilità e il diametro di sterzata ma anche nella linea di percorrenza. Altra considerazione da fare è che una macchina del genere di queste dimensioni anni fa con un 1200 sarebbe stata impensabile. Oggi grazie al contributo del motore elettrico invece è possibile, 200 CV sono tanti. E comunque l'interazione con lui consente anche di abbattere i consumi. Ovviamente quelli dichiarati sono molto buoni ma una volta che avremo l'auto per verificarli, lì sapremo la verità. La macchina la conosciamo già, è stata presentata a livello statico, però è bene ricordare anche il comfort che offre a livello di guida nell'ambiente. Questo nuovo display con questa grafica molto d'effetto, Google integrato. Si può parlare anche delle sue assistenze alla guida che sono ben 32, dei materiali che sono stati usati, dell'ergonomia. Questo tunnel centrale molto importante, grosso, ricordiamo che ci sono a disposizione 35 litri di vani nell'abitacolo. Sono poco meno con la versione, col cambio tradizionale, perché col cambio così, col drive al piantone di sterzo, ovviamente si libera molto più spazio qui. Diciamo che quello che ha portato la Megane a livello di innovazione, di stile, lei raccoglie anche se rimane più conservativa. Questa è una macchina che deve fare i numeri. Ecco perché usare sì, ma in modo più oculato. Comunque devo dire che il salto qualitativo in alto c'è stato. Abitabilità dietro, molto vantaggiosa grazie alla panchetta che può avanzare di qualche centimetro. Anche qui visibilità posteriore non eccelsa. Non arriviamo però ai livelli della Megane, che ha veramente un vetro piccolissimo per avere quel tetto spiovente. Quindi obiettivo raggiunto come percezione, una macchina che dà una certa soddisfazione. Nuova vita per la C-SUV e Renault, nuovi anche i prezzi. Full Hybrid così parte da 39.500 euro, non in questo allestimento però, ma la Mild Hybrid parte da 32.000. Aspettiamoci grandi numeri? Il mercato di questo segmento fa 42%. Staremo a vedere. Staremo a vedere.